Grazie a tutti. Proiettili, ecco qui! 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 Ecco dei proiettili! Sergente, quali sono gli ordini? E' un po' in fuoco! Ricordiamo l'obiettivo! L'obiettivo è perso! Quello è l'obiettivo, dobbiamo conquistarlo! Ecco, munizioni! Granata partita! Tenete giù la testa! Fronte delle munizioni! Munizioni, avanti! Conquistiamo quell'obiettivo! No! Non è vero, non è vero, non è vero. Forza! Ecco dei proiettili! L'obiettivo non deve cadere, difendiamolo! Forza! Conquistiamo l'obiettivo! Tieni! Munizioni! Una granata! Attenzione! Ecco le munizioni! Sui! Svegli! 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 Ma! Ecco che arrivano, ragazzi! Ecco qui un po' di munizioni! Conquistiamo l'obiettivo! Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Ecco! Echco dai progetti! C'è un po' di più! 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 Tu, 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 tu. C'è il sistema? Siamo nei guai, l'obiettivo è perso! Vai al secondo, non ha dato un fatto. Conquistiamo l'obiettivo! Ho non bisogno di fare un'attivazione. Siamo nella grandina! Il sforzo è un'attivazione specifica. Non è un'attivazione! Il ha stato un'attivante, il ha detto che è un'attivazione! Il lo vessel è Rothschildi è un'attivazione. È un'attivazione che ha il suo conoscenza! ... è un'attivazione che abbia fatto il bisogno... Sì, non c'è nessuno. Basta il ciasno Allora non mi senti a nessuno Ma non mi ha detto Non si non mi fa E' questa cosa Non mi fa Stieni! Non mi fa Non mi fai Non mi fa Non mi fa Non mi fa Non mi fa E' un po' di più Ok, non è un po' di più Non è un po' di più Per chi aspetta Questa è l'obiettivo! Dobbiamo conquistarlo! Questa granata è tutta per loro Via, via, via Uff Non vabbiamo Il nostro corso gratuito è stato molto vero Guarda, c'è un metà, non c'è una squadra che c'è la squadra E' una squadra che c'è la squadra La squadra è stata una squadra Non c'è un sacco Ah, no, no, non c'è la squadra E' un po' di più. Pagio, grano caronciato! Non mi 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 senti a giocarsi, io pubblico la mia. Che pese. E' un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più! Ah! Come qui ci! E' un po' di più! 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 ecco le munizioni conquistiamo subito l'obiettivo forza ecco dei proiettivi scurru a pellevare si ande si forza albani 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 si ruo pe dirigita ecco dei proiettili proiettili ecco qui come si spara c4 c4 what the fuck c4 man what the fuck c4 c4 i don't know 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 big draw m4 9 7 to 4 9 ma lard ah desi ah 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 c4 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 p&c t4 c6 c4